Un nuovo caso di positività al covid-19 su 421 tamponi analizzati, lo 0,2% di positivi sul totale. Questo è il numero che emerge dal bollettino odierno del coronavirus. In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati in totale 3.282 casi di positività al covid-19. Oggi ci sono 49 pazienti ricoverati in ospedale, meno uno rispetto a ieri, tre numero invariato in terapia intensiva, mentre gli altri 342, meno 8 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 460 pazienti deceduti. L'ultimo decesso in ordine cronologico è riferito a una 98enne di Montesilvano. 2.428 sono i dimessi e guariti, più 9 rispetto a ieri. 2.315 le persone che hanno definitivamente risolto i sintomi dell'infezione risultando negative a due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo dunque calcolati, sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e guariti e dei deceduti, è di 394 con una diminuzione di 9 unità rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 245 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Monal Aquila, 832 alla ASL Lanciano Vastocchieti, 1.543 alla ASL di Pescara e 662 alla ASL di Teramo. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 98.872 test, di cui 93.198 sono risultati negativi.